Buona giornata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 a causa di un incendio a bordo carreggiata si sono formati 6 km di coda tra Incisaregello e Arezzo in direzione Roma, in direzione Bologna per traffico intenso, rallentamenti tra Calenzano e Barberino. Sulla A11 in direzione Firenze per materiali dispersi rallentamenti tra Pistoia e Prato Ovest. Sulla A12 per lavori rallentamenti tra Colle Salvetti e Rosignano in direzione Sud. Sulla Fipili per lavori rallentamenti tra Firenze Scandicci e Ginestra Fiorentina in direzione Mare. Sul raccordo Siena-Firenze per lavori di manutenzione e restringimento di carreggiata dal chilometro 47 al chilometro 50. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!